Reddito di cittadinanza, istruzioni per l'uso. Da oggi fino al 31 marzo è possibile inoltrare la propria richiesta. Le domande vanno presentate sul sito internet dell'Inps, in uno dei 12.000 uffici di poste italiane o presso i 10.000 sportelli dei CAF. È necessario portare con sé la tessera sanitaria con il codice fiscale e la domanda, possibilmente già compilata, per agevolare le file. I dati, entro circa 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, verranno trasmessi all'Inps, che ne verifica in 5 giorni i requisiti e accetta o rifiuta la domanda, non oltre la fine del mese successivo alla trasmissione della richiesta. Una volta vagliata, se ne verrà riconosciuto il diritto, le poste inviano una comunicazione con la quale avvisano il beneficiario per il ritiro della carta elettronica, una carta di credito prepagata su cui verrà accreditato il reddito di cittadinanza. Può essere utilizzata, ad esempio, per acquisti in negozi alimentari, farmacie e parafarmacie. Una parte può essere prelevata per utilizzarla in contanti, fino a 100 euro per un single e sino a 210 euro mensili per una famiglia numerosa. Sarà possibile anche pagare bollette di luce e gas a tariffa agevolata e fare bonifici per affitto o il pagamento del mutuo. Resta il divieto, invece, per giochi, lotterie o scommesse.